Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video! Oggi andremo ad aprire insieme a Leo I pacchetti Quali pacchetti? Quelli delle sfide degli incontri principali Su come? Le sfide degli incontri principali Cosa devono fare adesso quelli che stanno guardando il video? Che devono mettere? Lasciate like Bravo! Ok, andiamo alla schermata dei pacchetti ragazzi Eccoli qua, abbiamo Un pacchetto giocatori argento Un pacchetto oro premium Un pacchetto oro maxi Bravo! Un giocatore oro premium E un pacchetto giocatori misti Allora ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei social Quindi seguitemi Lasciate like Venite su Instagram Stalkeratemi Tanto non vi preoccupate Che ne so Iscrivetevi al canale Fati iscrivetevi a vostra mamma, sorella, cugina Eccetera eccetera Allora, adesso Stantemi a sentire Lasciate like adesso Lei ha visto quando stanno mettendo già Quattro Cinque Die Tre 40 like Belli no? Possiamo aprire il primo pacchetto che dici? Sì Apriamo? Eeeh Tre Due Uno Caaack Cosa? Adesso canne Caaack Attenzione! Oddio! Dovrebbe essere buono! Apriamolo! Cosa c'è dentro? Hansen! Forte leo Hansen Sì Sì Perfetto Ottimo È DC È DC Abbiamo che cos'è? DC significa difensore centrale Pace un po' di Dobbicella Eh 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 Dai Carini Li mandiamo nel club Va bene? Sì Ok E sono uscite cose buone? Così dai Così 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 Pacchetto oro premium Guarda Leo Stanno lasciando altri like Hai visto? Ma in questo momento Perché uno si è dimenticato Si è dimenticato E sto lasciando un like adesso Giusto? Vi stai vedendo sta giornata? Da vedi sta giornata? Giusto? Vedi Ledi tu Lascia? Like Bravo Apri il prossimo pacchetto Vai 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 Vediamo cosa c'è dentro Vai Attenzione Oddio È oro l'aro? Vediamo chi è? Francese Difensore centrale Pavard Pavard È un fenomeno Questo Pavard Narò Nazionale Tutto a tutti Credimi Ha vinto tutto Allora mettilo in campo Mettilo Certo Oh C'è pure Zapata Buono Chi è? Dov'è? Ecco questo giocatore del Napoli Forza Bab Gioco nell'Atalanta Ah eccola No Quello là è Yunes Quello del Napoli Questi qua li mettiamo Nei trasferimenti Questo Tenimelo Lo vado a controllare Quando fosse Perché a volte All'inizio All'inizio il gioco Gli allenatori valgono qualcosina Allora guarda Leo Stanno lasciando altri like Quindi Andiamo con i pacchetti oro maxi Vai Una volta Babi Va bene Fa niente Va bene Attenzione È raro Nessuno schermo Attaccante Spagnolo Borja Bastor Marore Questo Questo fenomeno Velocissimo 58 di velocità Questo corre come un pulmine 58 all'ora di velocità Una bestia Un animale incredibile Vediamo che c'è Nel stesso pacchetto Vabbè dai Un po' di giocatorini Un po' di roba Che altro c'è qua dentro Vediamo se c'è Quasi interessanti Vabbè dai Nulla di che Nulla di che Vabbè ma questo è proprio il pacchetto Guarda qua Già vedo che siamo arrivati Intorno ai 150 like Proprio Easy proprio Proprio tranquillo Quindi non andiamo ad aprire Andiamo ad aprire Apriamo Vai premix Oh 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 Vediamo un po' È sempre raro però Difensore Oh Stones Guarda Questo è forte Questo è forte Stones Stones è il difensore Del Manchester City Questo è forte È alto Grosso Massimo Belluva E' bravo Ci sta Fortissimo Mi piace Mi piace Chi altro c'è Che poi lo uso pure in squadra Anzi no Non devo dire che l'ho messo bei lì Umar Cariglio Foster Va butta apposta No Sbagliato 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 Tutto su Tutto su Tutto su Questo li devo salvare Li devo salvare E poi Mi li vado a gestire Perché poi dopo Alcuni li uso Alcuni lo Qualcuno lo scarto Alcuno lo tengo Quindi lista da sperimenti Leo Questo è il pacchetto Più importante Mi raccomando Leo Deve essere lo schermo Questo è il pacchetto Proprio più importante Di tutti Qua usciamo E rientriamo Poi che facciamo adesso? Apriamo Non usciamo e rientriamo Un'altra volta? Sì E dice Lasciate like Lasciate like Ok Hanno lasciato like Leo vai Premi No Impegnati L'hai premuto Leo Qua è un Cristiano Ronaldo Grazie Oddio È buono Leo È buono È buono È buono E ce ne sette No È Sergio Di Veneto Per poco Guarda Pure lì è forte Poteva essere Sergio Poteva essere Cristiano Ronaldo Poteva essere Mi è venuta una cosa Buone E vabbè E vabbè E vabbè Che altro c'è qua dentro? Qua dentro Un po' di giocatori Un po' bellini Ah paletta Paletta è bellina Guarda qua Guarda che taglio di capelli Fantastico Che c'è la paletta È vero E questo che bel taglio di capelli È vero Eh Va bene Poi chi altro ci sa qua Ringard Oliveira Vabbè A posto Lasciamo tutti Questi mandiamo Nella lista dei trasferimenti Ecco qua Usciamo Annullano Vi faccio vedere giusto Un aggiornamento veloce Della mia squadra Perché molti Mi hanno chiesto in dare Di Sasa Ma che squadra Ti sei fatto Perché ieri Ho giocato Abbiamo pure Aperto dei pacchetti Andatevi a recuperare Il video Precedente a questo Che porta cosa Mi è uscito Nella Nelle squad rivals E al momento Questa è la mia squadra Questa è la mia squadra Con questo qua Raga Fenomenale Veramente Veramente forte Gabriele Giù e su Veramente forte Il resto Qualcosa ancora da cambiare E altri giocatori Magari da inserire Oppure no Dei pai Raga Compratevelo L'animale La bestia Fortissimo Sto ragazzi Cioè Veramente forte Sta carta Forte Forte Comunque Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel pollicione in su Mi raccomando Iscrivetevi al canale E giocate a fortnite Perché Siamo andando a video di fifa Lei è ero Giocate anche a fortnite Ovviamente Quindi Ce ne sono tutti i link utili Per seguirmi in descrizione Lasciate like come sempre Condividete il video ovunque Dove vi pare Dove vi piacere Ci vediamo come sempre Tutte le sere in live Qualche volta sì Qualche volta no Sia su youtube Che su twitch Sempre i link utili in descrizione Se il video vi è piaciuto Bella